Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Nonostante sul Mediterraneo domini l'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo su buona parte della penisola, la Liguria rimane esposta a un persistente flusso di aerea umida dal Tirreno che favorisce nuvolosità marittimo costiera, tratti compatta e deboli piogge sul centro ponente nella giornata di domani mercoledì. Giovedì le piogge saranno più intense ed estese per l'approssimarsi di un vasto fronte dell'Atlantico. Le temperature sono in aumento. Il dettaglio oggi martedì 20 ottobre flusso umido sud orientale nei bassi strati con formazione di nubi marittimo costiere più compatte sul settore centrale della regione dove sono possibili deboli piovaschi sparsi. Venti in generale rinforzo fino a moderati da nord est a ponente da est sud est a levante. Mare poco mosso in aumento fino a localmente mosso in serata. Temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 15 e 19 gradi nelle zone interne tra 12 e 15 gradi. Domani mercoledì 21 ottobre ancora un'alta pressione che campeggia sulla Liguria ma c'è sempre questa persistente avvezione a questo flusso di aria umida sud orientale che mantiene condizioni di cielo coperto con deboli piogge sul centro ponente. Molto irregolarmente nuvoloso con piovaschi più rari sugli estremi della regione. Venti in rinforzo fino a forti da nord est a ponente moderati da est sud est sul centro levante. Mare in aumento fino a molto mosso per onda da sud sud est sul centro ponente localmente mosso levante. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 12 e 14 gradi nelle zone interne intorno 7 e 8 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 16 e 20 gradi nelle zone interne tra 14 e 16 gradi. Dopodomani giovedì 22 ottobre un nuovo sistema lentamente rode l'alta pressione. Si fa strada sul Mediterraneo occidentale favorendo una rotazione del flusso da sud ovest anche negli strati intermedi dell'atmosfera. Dunque avremo una giornata grigia con cielo in prevalenza coperto e piogge deboli ma persistenti sul centro ponente in estensione verso levante entro la serata. Venti moderati da nord est a ponente con locali rinforzi da est sud est a levante. Mare molto mosso in temporaneo calo a mosso il mattino a ponente mosso levante. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 10 e 11 gradi. Massime in aumento lungo la costa intorno 20 e 21 gradi nelle zone interne tra 16 e 18 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo instagram dell'agenzia. A risentirci!